Ciao a tutti, sono Enrico Soffiati, International Marketing Manager per l'Ange. Quest'anno introduciamo la nuova linea XT, una linea per Schattel & Mountain Freeride che ricercano le alte performance. È una linea molto versatile che ha appena vinto l'Iscola World. L'Iscola World perché, come vedete, andiamo ad introdurre un nuovo concetto di versatilità. È una scarpa che scia molto bene, ha un livello di performance molto elevato, ma è una scarpa che garantisce un'altissima camminabilità, facilità di camminata, ma è anche una scarpa leggera, su tre attributi allo stesso tempo. Andiamo a vedere perché. Questa scarpa è una scarpa che presenta un nuovo meccanismo ski-hike, quindi un meccanismo che favorisce la camminata. È una scarpa che in posizione di camminata aperta permette un'apertura del gambetto di 20 gradi, quindi allineata alla concorrenza del segmento, ai migliori della concorrenza del segmento. In posizione ski il gambetto si aggancia meccanicamente allo scafo. Questo vuol dire che la performance in discesa è allineata a una scarpa da pista. Quindi una performance sicuramente superiore a quello che viene proposto in questo momento nel mercato. Su questo segmento. Dal punto di vista della camminata offriamo le suole WTR, quindi le suole WW Walk to Ride. Queste sono delle suole che vedete che hanno una rullata, quindi una facilità per facilitare la camminata, ma allo stesso tempo presentano un inserto in plastica. L'inserto in plastica permette la facilità di apertura dell'attacco, quindi di mantenere la sicurezza e dall'altro punto di vista mantiene anche la performance in discesa. Parlavamo anche di leggerezza. Dal punto di vista della leggerezza questa è la scarpa del segmento più leggera. Se riuscite a lavorare sia sui spessori riducevoli, sia sul materiale che utilizziamo sulla scarpetta, utilizzando una scarpa che è appena di sopra di 2.000 grammi al mezzo paio. Per il segmento questo è sicuramente un record e diciamo un segmento è un record considerato la performance in discesa. Offriamo la scarpa in preflex per uomo da 130 a 100 e per il donna da 110 a 80. Dato che Lange pone particolare attenzione al discorso fit, quindi alla calzata perfetta rispetto al piede, portiamo anche due calzate, quindi quasi tutti i modelli possono essere aperti sia in forma a 97 per i piedi più stretti che in forma a 100 per i piedi più importanti. Quindi questa è la nuova scarpa ST, la scarpa diciamo che ti scia meglio tra i prodotti con il mio meccanismo. Ciao.